Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi secondo episodio di gym, ovvero la seconda giornata dell'allenamento. Oggi ragazzi andremo ad allenare le braccia. Cominciamo con i bicicletti. Faremo un cavo, come bilanciere questo qua. Questo bilanciere qui. Faremo tre serie da 15, 10, 5 ripetizioni. Ovviamente ragazzi qui potete vedere il peso. Nuovo peso aggiunto, 56 kg ragazzi. Ovviamente queste serie, voi le vedrete tutte perché avranno peso differente. Quindi vedrete tutta la mia sofferenza. Cominciamo con 14 kg. E faremo 15 rep. Via! Prima serie, anga, anga. Bene, direi benissimo, anzi, aumentiamo di 10 kg, 5 kg per lato. Eccoci qua ragazzi, pronti per la seconda serie. Ragazzi, 26 kg. Sono abbastanza per uno come me che non zelena costantemente da tre anni. È un peso abbastanza importante. Ragazzi, direi che con abbastanza fatica, ma ci siamo. Siamo riusciti. Adesso arriva il brutto perché ci saranno su questo bilanciere ben 34 kg. 34 kg, 5 ripetizioni. Bene ragazzi, eccoci qua. La cintura messa, ovviamente indispensabile quando non pesa così importante perché è 34 kg per i bici di bici sono abbastanza. Proviamo. Durissimo ragazzi, abbastanza duro. faccio il rap. Le ho fatte non troppo bene, però vabbè, ci sta come se è pesante. Poi siamo in fase di ripresa, quindi ancora... Niente ragazzi, adesso ci vediamo con il secondo esercizio. Ragazzi, secondo esercizio. Carlo a rubri a martello, ovviamente tre serie per otto ripetizioni, ovviamente voi vedrete solo una serie perché è inutile che vi faccio vedere il tutto, che anche tutto qual è. Cominciamo. Cominciamo. Prima serie fatta, ora vi farò le altre due serie e ci vediamo con il terzo esercizio. Bene ragazzi, passiamo al terzo esercizio. Pantascolto. Un vero è una sorta di pantascolto. Con... Ma non più. 12 kg ovviamente. Forse sono andato un po' troppini. Proviamo. Ok ragazzi, primo braccio in dato, adesso è il secondo. Non c'è lungo. Sparante. Non c'è lungo. Non c'è lungo. Non c'è lungo. Andiamo. Passiamo. Un barbate. Allora, fa... Quindi non c'è lungo. 2 serie e poi ci vediamo al prossimo esercizio. Eccoci qua, ultimo esercizio per i principiti, Reverscrum, si si Reverscrum, ci vedo domani mattina. Volevo dire Reverscrum ragazzi, come un bilan gel facciamo 3 serie, 10 nerv, 20 kg. Voglio prendere sempre tutta. Ok ragazzi, è durissimo, 20 kg sono duri con questo esercizio. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo qui con i principiti, faremo come abbiamo esercizio una French Press, comincieremo con 12 nerv, ovviamente con i principiti e faremo 15, 10, 5 e i tiri saranno 10, 20 e 30 kg. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, è andata nel corpo pesante, nel meno leggero. Niente ragazzi, continuiamo sempre con questo peso. Ci vediamo nei prossimi esercizi. Abbiamo spinta su banca, questa stretta ovviamente, manga piana. Ragazzi, paghiamo tre serie da otto con 30 kg di peso. Ok ragazzi, non faccio dieci, ma meglio così. Il peso è giusto, non lo aumenterò proprio questa volta. Ci vediamo direttamente al prossimo esercizio. Ok ragazzi, eccoci qua. Quarto, un'ultimo esercizio per i principi di, abbiamo tirato il camo alto, con queste, con la corda. Ragazzi, andiamo a fare questo esercizio qui. Faremo tre serie per 10, 12 tempo. Bene ragazzi, cominciamo. Ok ragazzi. La serie è abbastanza semplice, non è becante, anche perché sono solo 10 kg. Però questo esercizio è abbastanza lido. Non so ragazzi, mi sono aumentato o meno. Non è deciso. Ragazzi, a fine momento, quattro kg in più, anche se sono troppi di quattro kg in più. Ok ragazzi, nonostante il momento di peso, ne ho fatto 10 ragazzi. Noi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di questa serie, con i miei 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 cittadini giovanì. E noi vedremo i dorsali ragazzi, e le spalle ovviamente. Ora, cerco fisico, e alla prossima. Grazie a tutti.